Attendiamo dunque il suo punteggio per decretare se sarà lui il vincitore, mentre ora tocca ad Angelina Melnikova. Ebbè anche lei sta fornendo una prova di grosso spessore, degna di quella campionessa che è, e avanti, molto bene questa Jäger Carpiata, grande prova, attenzione, ecco il secondo degno vincitore di questa edizione. Probabilmente, d'altra parte, la Russia ha una grande tradizione alle parallele asimmetriche, pensiamo ad Aria Spiridonova, pensiamo a Vittoria Comova, pensiamo ad Alia Mustafina, ma anche lei ha saputo difendersi benissimo. Fulvio, 16.150 per Vernaieva alla parallela, sono stati generosi. Poco piacenti, devo ammettere poco piacenti, anche se io l'ho definito nel giustizio stellare.